Secondo me vinciamo. È per me? No, è quella che mi hai fatto tu. Sono bellissime le canzoni. E anche quello che mi hai registrato. È che... È che non è il momento. E lì io ti trovo un bel ragazzo, in tutti i sensi. Mettiamola così, avessi una sorella farei veramente il tifo per te. Stai con qualcuno? Sicuramente quello sbagliato.